Il corrente è stato un percorso virtuoso, quella dell'unità è un'esigenza che è emersa in maniera pressoché unanime da tutto il partito. Si è passate attraverso una serie di assemblee e direzioni regionali che hanno affrontato il tema del modello di partito e della visione di politica che in questo momento è necessaria per dare un'alternativa al governo di questa regione e anche alla gestione del partito. Il nostro sarà un congresso costituente che dovrà rifondare per alcuni aspetti il modello organizzativo e continuare anche sul lavoro che è stato svolto e si è arrivati a condividere un programma su alcuni capisaldi fondamentali che sono un partito unito perché riteniamo che un partito in questo momento democratico debba essere unito perché è più forte e più credibile, un partito rinnovato nella sua classe dirigente perché anche questa è un'esigenza emersa dai cittadini, dalla società civile, dai militanti e dagli iscritti, un partito che sia aperto, aperto alle istanze dei cittadini ma anche delle associazioni, dei sindacati, del terzo settore e sia vicino, un partito di prossimità vicino ai cittadini, alle istanze che emergono dalla società e che possa rappresentare un modello progressista, un modello di società che oggi va interpretata perché il Molise ha dei problemi concreti e il partito deve tornare ad essere vicino ai territori e agli amministratori.